Aspetti, che dice? Aspetti, ricominciamo il video, non si capisce. Aspetti. Scusate, non ho messo il nostro traduttore universale. Io mi chiamo Trakoronk e vengo dal pianeta Armenia, nella costellazione delle Pleiadi. Siamo nel terzo pianeta del sistema solare, della stella Urknatis. Sono venuto per prendere a BF Point il nuovo CD di Stephen Wilson, musica elettronica strepitosa. Un viaggio sperimentale fra la dance synth pop anni 80, sino alla psichetelia elettronica fantastica The Porcupine Tree. Un album di cultura universale strepitoso. Terrestri, dovete prenderlo. Terrestri, venite a BF Point e prenderlo di corsa, perché questo album è semplicemente un capolavoro. Ora ti riconosco. Com'è un capolavoro? Stephen Wilson. Coloro? Come ti dice Robbie? Da paura! No! Che ero, ho chiuso tra l'altro tra l'altro. Ah, ecco perché.